Gentili telespettatori, buona giornata. Flavio Briatore si accorge che esiste l'invidia sociale. Il Tuinga, che è lo stabilimento balneare che è in comproprietà con la Sant'Anché, viene distrutto dal maltempo, diciamo parzialmente distrutto. Lo sfogo di Briatore, l'Italia è un popolo di invidiosi. C'è uno sbaglio di valutazione, non è vero che l'Italia è un popolo di invidiosi. Bisogna dire un'altra cosa, in tutto il mondo esistono gli invidiosi sociali, quindi è differente dire che esistono gli invidiosi sociali che gli italiani è un popolo di invidiosi, perché dicendo italiani popolo di invidiosi significa che la caratteristica principale degli italiani è l'invidia, ma su questo non sono d'accordo. Semplicemente si parla di invidia sociale. Che cos'è l'invidia sociale? Sono persone che invidiano, perché viviamo nel mondo dell'apparenza, nel mondo dei soldi, dove più hai, più sei considerato. Mostrare per essere considerato ad un certo livello. Quindi viviamo nell'era dell'apparenza, dell'apparire, del mostrare, più mostrato che dato, diceva un pontefice. Più mostrato che dato. Abbiamo visto proprio De Sica e Boldi, che loro hanno fatto i cinepanettoni per anni, dove mostravano praticamente gli atteggiamenti delle persone ricche. De Sica quando va in vacanze di Natale, che arriva con la Maserati, non vi ricordate, con la casa, con i domestici. E lui ha un atteggiamento da figlio di persone ricche, ma comunque figlio che ha degli atteggiamenti di superiorità, che si sente al di sopra di tutto e di tutti. Ecco, anche De Sica dice, ma com'è questa storia, ma che cafonate è? La gente passa il tempo a ostentare sui social, a fotografarsi vicino cose costose o facendo presumire che siano sue. Insomma, il mondo dell'ostentazione è l'invidia sociale. L'invidia sociale che colpisce anche ebriatore, l'invidia sociale colpisce chiunque abbia successo, in qualunque modo che abbia visibilità, successo. L'invidia sociale è una persona che ha una vita non normale, che magari non ha fatto i soldi, che magari non gira col macchinone, che non ha la casa di tre piani, che non ha l'attico, che non è visibile sui social. Insomma, spesso molti diventano dei frustrati perché secondo loro non sono arrivati, perché oggi arrivare significa essere visibili e avere i soldi. E allora l'invidia sociale si scatena su subriatore o su chiunque. Gli invidiosi sociali si uniscono in internet, si coalizzano. Infatti cosa succede? Che in un video pubblicato su Instagram l'imprenditore ha voluto rispondere a coloro che hanno espresso frasi derisorie sui social una volta presa la notizia che lo stabilimento balneare di Forte di Marmi, di cui è proprietario con Daniela Santanchè, era stato in parte devastato ieri dal maltempo. Molteplici messaggi invece di supporto anche dall'infettivologo Matteo Bassetti. Allora, l'invidioso, qual è la caratteristica principale dell'invidioso sociale o anche dell'invidioso comune? L'invidioso è dispiaciuto per i tuoi successi ed è uforico quando le cose ti vanno male. Pertanto, se a Briatore va bene, l'invidioso è rattristato perché invidia il personaggio. Mentre se al personaggio, se al famoso, al ricco, a quello che ha fatto di qui e di là, gli va male qualcosa, l'invidioso si sente soddisfatto a tratti e uforico perché si sente rinfrancato, perché quello che lui invidia, quello che lui non è riuscito ad essere, a diventare, non ci riuscirà mai, ha un problema e allora si sente soddisfatto inconsciamente perché si sente meglio. Dice, beh, allora io posso anche sentirmi fortunato oggi perché a me il maltempo non ha distrutto niente mentre lui ha avuto un danno economico. Tiè. Ecco, questo è il comportamento dell'invidioso sociale o semplicemente dell'invidioso. semplicemente dell'invidioso. L'invidioso è quando voi, ad esempio, dite a una persona che conoscete ho comprato la macchina e quello fa ah, devo andare, scusa, l'invidioso lo vedi subito, si rattrista per i tuoi successi ed è uforico se tu hai un problema e spesso l'invidioso non se ne accorge di essere così, anzi, pensano che gli altri siano invidiosi. Io, sapendo che esiste l'invidia sociale, se fossi imbriatore in tanti altri, non starei troppo a dare, a prendersela perché l'invidioso sociale oggi ce l'ha con imbriatore, domani ce l'ha con pinco pallino, non è che realmente ce l'ha con imbriatore, ce l'ha con la persona che ha successo a differenza di lui che non ce l'ha. È la frustrazione. Questo è il problema. Quindi l'invidioso che commenta e esulta per il twinga semidistrutto, non è che realmente ce l'ha con imbriatore. Se fosse stato un altro che si chiamava pinco pallino, era la stessa identica cosa. Non è una cosa personale contro imbriatore, ma è un qualcosa che è contro quelli che sono riusciti a fare qualcosa che l'invidioso reputa un qualcosa di chissà che. Ecco, perché bisogna poi vedere anche il metro di misura. se nella vita aver fatto i soldi vuol dire essere realmente delle persone da invidiare. Bisogna anche capire qual è il metro di misura, ma molti il metro di misura hanno il selfie da fare, da mettere sui social. Quindi capite che se Briatore ha mezzo milione di seguitori, l'invidioso sociale non ci riuscirà mai e diventa la frustrazione della vita. Allora mette di su di tutto, fotografie, video, però non ci riesce e invidia oggi Briatore e domani un altro. Io consiglierei a quelli che sono seguiti sui social o in generale di non andare a guardare i messaggi. Non puoi, è come entrare a casa di 60 milioni di italiani e dire tu cosa ne pensi di me? E tu cosa ne pensi di me? Non ha senso. Non ha senso voler piacere a tutti. Quindi non vuol dire nulla neanche star lì a rispondere. Semplicemente non devi neanche prendere in considerazione di leggere i messaggi. Arrivederci a tutti e grazie.